Buongiorno amici di Parks Mania, benvenuti sull'Ul 571 di Moviland, l'ultima creatura del nostro parco, dedicato naturalmente al cinema e visto che nel cinema usano spesso questi film emozionanti, dedicati agli u-bote e sommergibili in genere, Moviland non si è fatta scappare questa possibilità. L'anno scorso, ad ottobre, abbiamo iniziato questa avventura, si è conclusa oggi, si è aperta al pubblico, magari tra qualche minuto vedremo anche qualcuno che esce dall'attrazione U571. L'attrazione consiste in un'esperienza che va da un pre-show dove illustriamo sostanzialmente la storia degli u-bote della seconda guerra mondiale e si inizia con un filmato introduttivo, dopodiché il pubblico a gruppi di 36 persone viene accompagnato all'interno di una sorta di sarsenale nel quale è parcheggiato, arenato il nostro U571. Si vede questo sommergibile e mentre si sta per salire a bordo arriva un attacco aereo e da lì inizia l'emozione, iniziano delle esplosioni, degli effetti molto coinvolgenti che inducono il personale, i marinai a far scendere il pubblico all'interno dell'U-bote. Grazie a tutti. Si scende attraverso una scala e si vivono proprio le emozioni dell'inizio di navigazione con tanto di simulatori, di motori, rumore, audio, splash d'acqua. Tutto termina con l'immersione rapida perché viene avvistato un cacciatorpediniero americano, il Pennsylvania Sun, che è quello che ha fondato veramente l'U-Bote. E quindi tutto il pubblico sale nella parte anteriore dell'U-Bote, ovvero un simulatore dinamico con tre movimenti. E qui vive la vera e propria esperienza, quella dell'affondamento in seguito poi ad un attacco fatto dalle bombe di profondità e poi non ve lo spiego fino in fondo. So che la gente alla fine riesce ad emergere e tutto va bene. È un bel mix, io penso, degno di Moviland, visto che ci freggiamo di attrazione homemade fatta in casa e inventate. Uniamo quindi tutti i nostri effetti che abbiamo finora sviluppato e ottimizzato all'elemento acqua, che è fortemente presente in questa attrazione. E niente, venite a Moviland, proverete l'emozione. Io penso che ci siamo riusciti. Alla prossima missione, ciao!